Lasciamo Bologna e torniamo qui a Roma per il nostro ultimo appuntamento di questa sera. Sono felice che qui con me in studio ci sia Italo Cassa, buonasera. Buonasera. E vi dico subito perché, perché Italo Cassa è l'organizzatore di un evento importante che si chiama il Carnevale dei bambini del mondo, di tutto il mondo per davvero, ed è anche il fondatore della Scuola di Pace che ha sede qui a Roma. Allora andiamo con ordine. Io vorrei chiedere prima di tutto Italo Cassa di raccontarci come è venuta quest'idea di questa Scuola di Pace, che cos'è intanto la Scuola di Pace che ha un sito internet, lo diciamo subito così chi vuole può subito visitare il vostro sito e navigarlo www.lascuoladipace.org Allora reggiro la parola. Di che si tratta? Sì, diciamo, io ho cominciato l'attività nel sociale nel lontano 1987 con un'associazione che allora si chiamava Peter Pan che interveniva nei campi dell'ecologia e della solidarietà e poi aveva avuto diversi sviluppi e attività in situazioni dove c'erano bambini in situazioni di guerra come ex Jugoslavia, Croazia e poi Bosnia. C'è stato tutto un percorso che ha portato anche a far venire qui in Italia molti bambini dal Bosnia anche durante la guerra nel 1995 e in tutto furono circa 600 i bambini che furono ospitati qui a Roma e dintorni presso le famiglie. E poi il discorso si è sviluppato fino a che appunto nel 2006, diciamo dopo tutto quello che era stato il periodo della guerra in Iraq, il periodo di Bush, insomma un periodo di grande difficoltà, le torri gemelle l'11 settembre, diciamo un periodo di grande difficoltà per la pace, si è pensato di trasformare tutto questo lavoro in una scuola di pace, insomma qualcosa di più organico nel lavoro che facciamo con tante scuole in Italia, anche all'estero e appunto trasformarlo in un progetto educativo in pieno. E che cos'è la scuola di pace? Diciamo che è una scuola, è un'associazione sostanzialmente che lavora con le scuole e anche fa delle iniziative con i bambini sia educative sia anche di solidarietà e diciamo noi cerchiamo di parlare il meno possibile di pace, di nominare la parola pace ma di farla. Ecco perché poi tanti ne parlano, è una parola che sta sulla bocca di tutti, di cui tanti si riempiono appunto. Diciamo che è inflazionata. Ecco, e come l'ha insegnata? Come la... Perché è un concetto che deve nascere molto dall'interno, insomma, come... Cosa è questa la cosa? Sì, diciamo che potremmo dire che un po' ci rifacciamo a Gianni Rodari, diciamo, cerchiamo di impostare un discorso più emotivo, no? Per esempio attraverso l'uso delle tradizioni, attraverso la musica, attraverso le danze, attraverso i colori. C'è un concorso che facciamo con le scuole in cui sono i bambini stessi che si esprimono. Ecco, più che, diciamo, fare in qualche modo spettacolo noi, cercare di fare in modo che siano loro a esprimersi, dargli dei spunti e su questi lavorarci. Ecco, dare la parola ai bambini e ai ragazzi. Questo è il nostro modo di fare scuola di pace. E poi da lì sono nati tanti progetti. E poi siamo stati anche a fare attività di storia dell'età. Nel 2009 siamo stati sei mesi all'Aquila, nella tendopoli di Piazza Tarni, che era la più grande. E lì siamo rimasti sei mesi con 150 volontari. Poi io sono stato ad Haiti nel 2010, da lì poi sono partiti altri progetti. Sono stato anche in Libano, ci sono stati dei rapporti di gemellaggio tra scuole italiane, scuole di Beirut e di altre località del Libano. Cioè, tutto un discorso in cui i ragazzi sono i protagonisti. Ecco, questa è la nostra scuola di pace. Ecco, qui leggo ad esempio iniziative di solidarietà concreta. Vedo qui dalla pagina che ho stampato dal vostro sito web. Leggo La pace si costruisce prima di tutto attraverso la prevenzione. È molto bello il vostro sito web perché è pieno di colori, ci sono tante parole, tanti concetti scritti in grassetto, qualcuno anche a caratteri cubitali. Insomma, è molto particolare, ecco, effettivamente. Allora, l'abbiamo introdotta come concetto, la scuola di pace. Però la notizia, la notizia che diamo è il carnevale. Ovviamente sono due concetti evidentemente collegati. Allora, il carnevale dei bambini del mondo, anche quest'anno perché non è il primo anno che l'anno. No, è il nono anno. Ecco, allora, di che cosa si tratta? Il carnevale dei bambini del mondo, leggo qui maschere di tutti i colori per bambini di tutti i colori. Allora, diciamo, il carnevale dei bambini del mondo è il tema di quest'anno, però il nome è Piccolo Carnevale Armonico. È un nome che è nato leggendo un libro, Godel, Escere e Bach, in cui si parlava appunto dell'opera Piccolo Labirinto Armonico di Johann Sebastian Bach, che è un'opera che fa un nestro armonico incredibile dove si stanno... È un libro complesso, non ci adentriamo... Non vado avanti perché è complicato. Però, diciamo, da quell'idea di unire e armonizzare le differenze musicali, e abbiamo pensato, perché non collegarlo all'idea di armonizzare le differenze, diciamo, etniche, culturali, religiose, i temi che fanno parte di questa nostra epoca, anche da cui sono nate anche delle guerre, ci sono stati problemi che ci sono stati nell'ultimo decennio. E da quest'idea è nato appunto Piccolo Carnevale Armonico, inizialmente molto collegato al discorso della coesistenza dentro la città di Roma, tra i bambini nelle scuole, che adesso sono man mano sempre più figli immigrati. E poi l'anno scorso, dopo l'iniziativa su Haiti, abbiamo fatto una prima esperienza internazionale in collegamento con Haiti. Cosa avete fatto ad Haiti, mi racconti? Ad Haiti io sono stato, ho fatto delle attività, diciamo, con quest'idea del Capitan Gioia, che era nata dall'Aquila, di cui abbiamo scritto anche un libro, abbiamo avuto anche un elogio del Presidente Napolitano, quest'idea dei capitani coraggiosi, cioè l'idea che in qualche modo, anche quando non ci stanno mezzi, anche quando non ci sono, c'è una grande difficoltà, però c'è qualcuno che in qualche modo si slancia e cerca soluzioni positive. Ecco, questo è Capitan Gioia. Che è anche l'ottimista, insomma. L'ottimista, diciamo, concreto, insomma. Ecco. Che possiamo essere tutti un Capitan Gioia. Questa è l'idea un po', appunto, importante. Io sono stato lì e ho fatto delle attività giocose, poi chiaramente i bambini di Haiti sono molto particolari, c'è una cultura molto intensa, perché quello è un crocevia tra Africa, America, insomma. E poi me lo penso un po' nel discorso e abbiamo fatto, appunto, un collegamento col Carnevale, perché lì il Carnevale di Haiti... Ecco, come... Perché poi... Ecco, io la interrompo soltanto per fare questa osservazione. C'è il concetto di Carnevale. Uno pensa, voglio dire, magari alla propria parrocchia, tra virgolette, ai propri costumi che magari sono sempre gli stessi. Non solo il Carnevale è diverso, anche da un paese all'altro, in Italia, voglio dire, ma è un concetto anche antico, qualcosa che viene da lontano e che, come dire, ha seguaci un po' di tutto il mondo, credo, no? Sì, diciamo, viene dall'antichità, perché i diritti di Dionisi, i giornali... E poi, diciamo che con la Chiesa Cristiana l'ha un po' in qualche modo ingabbiata in un periodo, diciamo, dell'anno, però ecco, comunque veniva, almeno da noi, nel passaggio delle stazioni, nel fatto del passaggio tra l'invera e la primavera. Però poi viene esportato, anche per dire, in regioni, invece, dove invece c'era estate, come nel Sud America, significa più che altro dalla religione cristiana. In qualche modo viene da una situazione pagana, però poi attraverso la religione cristiana oggi lo troviamo in tutto il mondo. Infatti. Beh, io l'ho interrotta, però. Allora, stavamo parlando di Haiti, di questo... Sì, Haiti, diciamo... Sì, appunto, ogni carnevale è diverso, e sì, ecco, queste sono proprio le differenze, perché in tutti i posti si esprime in modo differente, però c'è un qualcosa di comune, che è questo senso della... chiamiamo della terra, no? è terrestre come tipo di festività, e che posso dire? Diciamo, appunto, ad Haiti ho visto una situazione particolare, una situazione dove ci sono pochi soldi, anche costruire un carro, una maschera, un posto dove non ci sono soldi, chiaramente può essere difficile, però lì si inventano delle cose incredibili, e quindi anche il carnevale viene fatto in un modo espansivo al massimo, no? è diverso, non so, da quello che può essere la parata di Rio, che in qualche modo è una cosa più commerciale, no? Ovviamente. Cioè, con tante idee che magari ce le sogniamo, però io, proprio ad Haiti, ho incontrato responsabile della scuola di teatro, e lui invece mi ha parlato dell'arte italiana, quindi del carnevale italiano, come un mito, come un mito proprio particolare. Ecco, allora, Italo Cassa, torniamo a Roma, si comincia, se ho capito bene, giovedì 16 febbraio? Sì. Ecco, diamo qualche spot, qualche appuntamento. Allora, intanto, carnevale del mondo, quindi questo, perché magari tanti dei nostri ascoltatori... Quest'anno l'abbiamo estesa a tutto il mondo, sia attraverso un lavoro sulla rete, sia attraverso le iniziative che stiamo facendo a Roma e altre iniziative che si stanno collegando. Quindi a Roma, il 16 febbraio, che è il giovedì grasso, quindi inizio, diciamo, da parte finale del carnevale, ci sarà la parata, diciamo, la festa in maschera dei bambini ai giardini di Piazza Vittorio, la mattina, con tutte le scuole, in particolare c'è la scuola di Donato, che è la scuola, diciamo, tra le più multietniche di Roma insieme alla scuola pizzacane di Tor Pignattara. Poi delle iniziatie nelle scuole durante tutto il periodo e poi la domenica, il 19, la mattina, diciamo, dei spettacolini, diciamo, dei spettacolini dalle 11 all'1 a Piazza Vittorio alla mattina, invece dalle 3 alle 5 del pomeriggio a Tor Pignattara, l'altro quartiere multiettrico della Capitale. E in Italia come siete collegati? Ci sono altre realtà che si stanno sviluppando? In Italia ci sono, diciamo, dei vari collegamenti e posso citare alcuni che già sono attivi, come il carnevale di Scampia, che era stato, in pensato da Felice Pignattaro, 30 anni fa, e ogni anno si esprime, appunto, diciamo, quello è un carnevale, chiamiamolo così, più politico, no? Infatti quest'anno è collegato alla borsa. Ecco. La borsa o la vita. Il tema attuale. Certamente, certamente. Bene, Italo Cassi, io la ringrazio molto di aver portato la nostra attenzione in questa realtà. Ricordo ancora, perché così chi vuole mettersi in contatto lo può fare attraverso il vostro sito internet, perché leggo qui anche della possibilità, insomma, ci sono tanti volontari che lavorano con voi, anche per... Insomma, tutto questo richiederà anche dei quattrini che immagino non sia proprio il momento. Purtroppo in questo periodo non ci sono prove. Vabbè, noi cerchiamo di aiutarvi come possiamo. Allora, lo ricordo ancora una volta, il Carnevale dei Bambini del Mondo, la non edizione, e questa bella realtà, la Scuola di Pace, www.lascuoladipace.org. Io ringrazio l'organizzatore di questo evento che è anche il fondatore di questa scuola, Italo Cassa, che è stato con noi in studio. Grazie. Grazie a voi. A presto. Grazie.